Settima edizione di Politici ai Fornelli, al ristorante Villa Briccone di Manopelo con noi il presidente di giuria, l'accademico della cucina Mimmo D'Alessio. Che gara è stata? Una bella gara, devo dire che questi politici in cucina riescono tutti a dare degli ottimi risultati, ma secondo me è abbastanza comprensibile, perché abbiamo sempre detto che la cucina è un atto di amore, si cucina per amore e anche chi si accosta alla politica, al di là poi delle devianze che ci possono stare, ma chi fa politica lo fa per amore, per amore della sua città, per amore della propria regione, per cui oltre a un orgoglio personale è proprio quello di servire gli altri e credo che le due cose combaciano e collimiano e quindi è normale che chi si dedica a quest'arte nobile della politica poi riesco a fare anche dei piatti altrettanto interessanti. Al di là dei risultati finali, quale piatto l'ha colpita, presidente, e perché? Allora, ci sono diversi piatti che mi hanno colpito, non soltanto uno in particolare, e ho trovato molta armonia in almeno tre o quattro piatti che sono stati presentati, e tutti fatti con materiali ricercati, specifici, e quindi ho trovato un'altissima professionalità. Devo dire che mi aspettavo una bella gara e i risultati sono stati superiori alle aspettative. Ma rispetto alle precedenti edizioni, come ha trovato la gara odierna? Devo dire che questo tipo di concorso, al quale ho partecipato praticamente da sempre, ha sempre dato degli ottimi risultati, tutti quanti si sono impegnati molto. D'altra parte è un politico che è una persona anche nota, visibile, cerca di non fare brutta figura. Devo dire che in tutte le edizioni, e anche in questa, non hanno fatto brutta figura. Mancavano alcuni big della politica, però il livello è stato molto alto. Lo hanno sottolineato anche i suoi colleghi in commissione. Bene, allora, diciamo che i big o personaggi di amministratori di piccoli centri sono uguali quando si presenta a un concorso. Per cui il fatto che magari qualcuno sia più noto o meno noto non significa nulla. Significa invece importante una certa sensibilità, una certa predisposizione a preparare il cibo. e devo dire che blasorati o meno blasorati, tutti quanti sono stati molto molto bravi.